300 uomini delle forze dell'ordine dall'alba di oggi stanno dando esecuzione ad un'operazione di controllo del territorio in via Riosto a Montesilvano dove sono state sgomberate delle abitazioni occupate da numerosi cittadini extracomunitari. L'operazione che durerà fino alla serata è stata portata a termine dopo l'ordinanza firmata dal sindaco di Montesilvano Francesco Maragno. In passato, come si ricorderà in via Riosto, in più occasioni erano state effettuate operazioni di polizia con sequestri di droga e di merce contraffatta. La situazione è sotto controllo, le forze di polizia hanno operato con grande professionalità, stanno dando attuazione ad un'ordinanza da me firmata diversi mesi fa che prevedeva lo sgombero dell'area per varie ragioni di ordine, sicurezza, igiene e igiene, oltre che ormai era diventato un problema anche di traffico di stupefacenti, di commercio di stupefacenti perché purtroppo era diventato il punto di riferimento di tanti tossicodipendenti dell'area. Oggi viene ripristinata la legalità in un contesto urbano per noi particolarmente importante perché è una delle zone di maggior pregio della città. È giusto integrare, però l'integrazione passa attraverso il rispetto delle regole e fino a quando non ci sarà il rispetto delle regole sotto questo punto di vista non saremo tolleranti. Si tratta dell'ennesimo blitz qui in via Riosto, potrebbe essere questa l'occasione per far sì che questa situazione possa migliorare definitivamente qui nella zona? Io mi auguro, anzi sono convinto che questo sia il blitz definitivo. Oggi sono state impiegate 300 unità delle forze dell'ordine e dopo l'intervento la struttura verrà murata per non consentire a nessuno di potervi accedere, restituiremo la struttura ai legittimi proprietari affinché la utilizzino in maniera più oculata, ovviamente dopo averla ristrutturata.